Ciao ragazzi, benvenuti al colpo della Pacific Standard o Standard, come volete chiamarla, al colpo della Pacific, ecco. Così evitiamo tutto quanto, come vedete abbiamo già i completi Urban che impieghiamo 8000 ore per fare 50 metri e come avrete letto dal titolo, oggi vi svelerò un segreto, ovvero Beastard è moddato o no? Come fa a comprare tutte le auto? Come fa ad avere sempre tutti quei soldi? L'unica spiegazione è che è moddato, sbagliato ragazzi, completamente sbagliato. Ogni volta che faccio un video di modifiche delle auto dove le modifico sempre all'ennesima potenza c'è sempre che sotto qualcuno che commenta ci sono sempre vari commenti dove dicono ma come cavolo fa a comprare sempre tutte le macchine? Ma come fa? Ma è di qua, è di là, è varie congetture, peggio di non so che cosa. Il motivo ragazzi è molto molto semplice, è che gioco neanche tanto, è che non perdo diciamo tempo su GTA ovvero non sto magari dei pomeriggi interi a fare la devastazione più totale in modalità libera tra virgolette libera, cioè senza fare nulla, quei lanciarazzi, C4 eccetera a sprecare tutte le munizioni e poi fare il carico nuovamente di munizioni e spendere altri soldi. Cioè io quando vado online o faccio rapine o faccio gare o comunque LTS, attività che mi danno tanti soldi e oppure non neanche tanti però siccome ne faccio così tante i soldi arrivano. Allora oggi sono qui con l'ultima rapinozza in banca e mi sembrava giusto ragazzi, perfetto andare a fare una bella rapina in banca, giusto per prendere un po' di soldi e parlarvi di questo argomento che ogni volta ribadisco che modifico qualche nuovissima macchina che la Rockstar inserisce nel gioco vedo questi commenti perché sicuramente le persone che scrivono quello è perché non hanno così tanto tempo da dedicare magari a GTA e quindi gli sembra strano vedermi sempre comprare auto, comprare tutto quanto però non sanno appunto che io ho giocato tantissimo a GTA, questo qui per chi non lo sapesse per chi si è collegato soltanto in questo momento sul mio canale e non mi segue dall'inizio questo qui è il mio terzo account, il primo account era oltre il livello 200, avevo mi pare dalle 700 alle 800 ore di gioco, avevo tutti i veicoli del mondo di GTA, tutte le auto quelle più costose, le super, tutte stra-iper modificate, tutti i veicoli speciali, tutti gli aerei, il dump, tutte le bar, tutto avevo ragazzi, tutto, 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 quindi capite che avevo giocato veramente tanto, ma tanto, ma tanto poi era anche l'epoca dei mega cheater dove regalavano miliardi a chiunque, quindi ragazzi lo sapete benissimo un paio di cose, me le sono comprate anche tramite quei soldi lì, tipo mi pare il dump, gli autobus, cioè i propri veicoli più inutili del mondo senza sprecare soldi, li avevo comprati con i soldi, chiaramente dei cheater che davano a chiunque entravi in partita, ti ritrovavi miliardi di soldi, ma comunque sapete la storia poi il primo account ragazzi non ce l'ho più su console, ma ce l'ho soltanto su pc, quindi tutti i veicoli la città, la turismo R, tutte le prime supercar ce le ho tutte sul primo account, anche le sportive quindi per questo non le ho comprate con questo account, perché ancora vedo moltissime persone che mi chiedono ma perché non ti compri quell'auto? E il motivo è questo qui allora ragazzi, ritornando al nostro discorso, se sono modato o meno, assolutamente no è tutto legale, tutto limpido, trasparente, sia a livello che i soldi ma di tutti gli account che ho sempre avuto, tutti i membri della crew lo possono confermare perché ci sono dei periodi dove veramente entro in partita, mi salutano facciamo i start, facciamo la rapina, subito così diretto oppure si hanno rapine chiedo sempre ragazzi se qualcuno di voi ha delle rapine iniziate o fatte o che sono già al colpo finale perché io ribadisco quando vado online molto molto probabilmente o faccio gare LTS oppure vado appunto per fare rapine e soldi perché so che la Rockstar inserirà in futuro veicoli, case eccetera eccetera quindi non mi voglio far trovare impreparato e quindi ho già i soldi così tramite i soldi vi faccio subito il video dell'auto e quindi tramite il mio video dove io spendo i soldi poi voi potete vedere il video, potete vedere la macchina e poi successivamente decidere ok, quell'auto vale la pena di comprarla non vale la pena, cioè mi sacrifico tra virgolette ecco, spendo io i soldi per farvi vedere a voi tutti quanti i veicoli penso che sia una cosa utile per tutti quanti avere un mio parere anche perché so che moltissimi di voi non hanno chiaramente tutto il tempo che posso dedicare io magari a GTA e quindi i soldi che hanno sono iper, stra iper sudati chiaramente anch'io ragazzi impiego ore non è che la rapina la faccio in 10 secondi però chiaramente ok, qua adesso rientriamo i soldi li posso fare un po' più facilmente tra virgolette ho più tempo per farli ecco quindi magari ho evitato a tante persone di spendere soldi inutilmente e poi ritrovarsi a zero quindi ragazzi non sono assolutamente moddato è tutto quanto legale e chiaramente anche tutti i membri della crew che ho veramente fatto disperare nel fare rapine perché alcuni mi dicevano basta, basta rapine non ne posso più facciamo qualche gara possono appunto confermarle e poi ragazzi io anche faccio tante tante gare le gare malate portano tanti ma tanti soldi anche perché si finisce sempre nelle posizioni alte che cavolo è esploso si finisce sempre molto spesso diciamo nelle posizioni alte oppure si vincono le gare oppure gli LTS oppure appunto i death run cose varie se si fanno in tante persone chiaramente la somma di denaro che si riesce a portare a fine attività è bella succulenta quindi anche tramite quello ha un introito veramente grosso per quelli che mi hanno chiesto bistar hai mai comprato una shark una scheda qui dove in pratica sono delle schede dove ti puoi comprare quei soldi reali i soldi qua in GTA io ragazzi non ho mai mai comprato niente perché sono contro questa tipologia diciamo di scorciatoie perché volente o nolente ah tu butti il coso vabbè lo butto anch'io là lo youtuber è seguito da tantissime persone tantissimi ragazzi ragazzini età piccole età grandi c'è una varietà incredibile chiaramente dai giochi che uno tratta e quindi volente o nolente io do l'esempio a molte persone non l'ho scelto io ragazzi perché qua su youtube posso fare quello che voglio ma siccome sono seguito da così tante persone molti magari quelli un po' più piccoli o che ne so io ragazzi prendono esempio da me e quindi io non voglio che le persone prendano come esempio che comprare sia una scorciatoia per prendere tantissime cose anche io ragazzi ci impiego poco a prendermi una shark come è che la chiamano mega quella del megalodonte una roba del genere la compro c'ho 8 milioni perché quella lì mi pare ti da 8 milioni di dollari e in questo periodo hai anche il 50% in più quindi hai altri 4 milioni quindi con quei soldi lì hai 12 milioni di dollari allora uno è morto quindi dovrebbe essere andato a buon fine e infatti ragazzi ha funzionato come vedete siamo già spawnati qua questo qui è il metodo penso che tutti quanti fanno il più sicuro il più veloce e in pratica ragazzi mi sono dimenticato che cavolo vi stessi dicendo comunque si magari sarò io troppo puntiglioso su ste si appunto su ste cose qua ragazzi però allora piazziamo lì una bella bombazza lì piazziamone un'altra giusto per evitare che magari arrivino troppi poliziotti qua a fianco va bene una anche lì perfetto quello è entrato dentro ok vai e adesso vediamo un po' se ci porta dentro al suo garage oppure esce direttamente vai così ottimus ottimus allora no io dietro io dietro avanti e si preme la x e si sta dentro al sicuro fantastico allora adesso non so sinceramente che strada faccia io so che ci sono delle fa sta strada qui giusto per perdere un po' di soldi stiamo calmi abbiamo perso solo 6.000 dollari così inutilmente lasciamo perdere io ragazzi mi arrabbio sempre quando faccio l'ultima rapina quando si perdono soldi perché questa rapina è di una semplicità inaudita non si deve perdere nemmeno un soldo comunque dai 6.000 dollari si possono accettare mettete in manicomio chi cavolo sta guidando veramente una cosa incredibile comunque si magari sarò io ragazzi troppo fissato su queste cose però non voglio dare assolutamente il brutto esempio tra virgolette ovvero che comprando si evita qualsiasi cosa anche io ragazzi non è che ci impiegherei tanto prendo mi prendo 10 carte della rockstar da 8 milioni e poi sono a posto per sempre ma poi il divertimento dov'è di giocare dov'è cioè il gusto proprio di comprarci una macchina che si è proprio sudata nel comprare nel comprarla appunto facendo rapine facendo gare cioè ma perché cavolo bisogna centrare le macchine ma schivale comunque scrivete in poi voi chiaramente sotto giù nei commenti cosa ne pensate io riguardo a chi si vuole far moddare o altro ragazzi cioè affari loro e me più di tanto non importa fin quando fin quando queste cose qui non intaccano proprio il gioco l'esperienza di gioco o altro cioè affari loro se vogliono comprarsi tutte le macchine del mondo eccetera che lo facciano pure magari chi non ha tempo e dice vabbè con pochi soldi mi faccio moddare l'account e poi io tutto mi diverto di più o altro cioè liberissimi di farlo io però per principio ragazzi per come sono fatto io ma in tutti i giochi ma proprio in tutti ma sia per telefono che quelli che c'erano online adesso mi ricordo ancora i tempi della scuola ragazzi tipo c'erano delle isole da conquistare robe varie poi chiaramente c'erano le cose da comprare e impiegavi molto meno tempo credevo che perdessimo altri soldi facendo quel frontale se si impiegava molto meno tempo io invece rimanevo lì eccetera perché poi ragazzi ci sono quei giochi vabbè in GTA anche ci impieghi tante ore ma poi tutti quei giochi di strategia che poi è lì che la gente compra eccetera io invece ho sempre voluto giocare diciamo pulito tra virgolette anche perché per se no la forza tra virgolette di qualcuno la bravura dov'è aprire il portafoglio e strisciare con la carta sono tutti bravi ragazzi anche io mi metto lì faccio tre strisciate ma porca vacca che ha perso soldi e cioè spero che il mio concetto l'abbiate capito anche qua in GTA non l'ho mai fatto e non penso neanche di farlo mai almeno nel futuro ragazzi non si può mai dire però finora non ho mai comprato niente ma niente niente mi sono sempre rifiutato perché sono giochi gratis eccetera e cioè deve esserci la bravura del giocatore anche qua poi in GTA comprare i veicoli eccetera la bravura non c'entra molto ecco però nel fare le rapine eccetera per poi poterti permettere le macchine là sì il tempo la voglia comunque ragazzi ci sono sempre pro e contro di tutto chi appunto ha meno tempo poi voglio sapere anche oh ma te riesci ad andare dritto con sta macchina te hai anche le gomme da coso io non ho il guidatore più assurdo del mondo ho preso fantastico non sa nemmeno andare dritto levategli la patente a questo una cosa incredibile comunque io voglio sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate secondo voi cioè soprattutto vorrei sapere in quanti di voi hanno mai comprato scorciatoi diciamo nei giochi comprare cose ditemi appunto la vostra la mia ormai la sapete che io mi ho dato assolutamente no e ci sono molti ma vai piano ma questo qui sembra che appena ha fatto la prima volta sta cavolo di rapina ditemi voi appunto sotto nei commenti tutto quanto io ho già perso il filo del discorso sapete che la mia memoria fa schifo si vi stavo dicendo che moltissimi ragazzi mi hanno chiesto se vuoi ti regalo l'account se vuoi faccio qui se vuoi ti io ho sempre ragazzi declinato tutto quanto molto gentilmente perché preferisco come vi ho sempre detto fare le rapine e tutto quello che concerne dietro non lo so magari sarà più lungo più rottura di scatole anche perché ci impieghi tante ore poi dopo che fai questa rapina per non so quante volte l'ho fatta diventa un po' una rottura di scatole perché spererei che la Rockstar mettesse nuove rapine belle belle succulente però finora ancora non c'è stato assolutamente nulla e che dire ragazzi ormai siamo quasi arrivati alla non cadere almeno quello che non ha fatto il salto dritto ed è sceso giù vai piano ma almeno salta dritto almeno hai il controllo dell'auto e abbiamo perso altri soldi vabbè dai 20.000 dollari non è molto però a me da un pochettino fastidio ragazzi perché si può evitare tutto quanto facendo un filo di attenzione comunque dai 20.000 dollari che cosa vuoi che siano diviso in 4 poi dai 5.000 testa occhio di qua non cadere di sotto fantastico quindi ragazzi spero che questo video fatto col colpo qui alla Pacific vi sia piaciuto che abbia un attimo sistemato vai piano dai cavolo che ci sono gli alberi non c'è lo sbirro non c'è nessuno abbiamo 2 minuti e 30 a me queste cose veramente mi fanno imbestellire queste cavolate qua ragazzi dove si può andare veramente lentamente invece si va a morire a esplodere adesso non è finita ragazzi perché mi è capitato un paio di volte che chi guidava il sto coso il dinghi andasse sulla riva guidate più no cavolo speravo di guidare io guida piano guida piano guida piano assolutamente piano oh vedo che guida piano quindi ragazzi il video per oggi si conclude qua una bella rapina portata a casa ditemi appunto i vostri pareri io non ho nulla contro chi fa cose così però per me per la mia tra virgolette morale ragazzi non compro mai nulla perché sennò è troppo semplice strisciare ve l'ho detto ve l'ho tradetto quindi siamo passati sotto il ponte distruggete il tasto di like commentate condividete mi sono dimenticato di scendere giù dal dinghi perché di solito mi lancio sempre giù guardate che scenario fantastico quindi io vi saluto vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.